Decadenza è uno spettacolo che non risparmia fondi al pubblico, un atto d'accusa che sebbene Bercov lo abbia pensato analizzando la società degli anni 70, oggi è anche di profetico e attuale. Alice Sgroi e Francesco Bernava ipnotizzano gli spettatori con il ritmo incalzante del verso e dei corpi. Non si risparmiano mai dal primo all'ultimo minuto di Decadenze, lo spettacolo con la regia di Giovanni Arezzo che ha ricevuto grandi applausi dalla platea del Teatro Margherita. La scelta di una scenografia spoglia che si contrappone alla potenza attoriale ed interpretativa che provoca il pubblico fino all'estremo come solo il teatro sa fare. Lusso, alcol, droghe, sesso e decadenze. Questo è uno spettacolo pieno di parole, di pensieri, di parole anche in rima perché ricordiamo che è uno spettacolo in versi, che vomita situazioni che poi di fatto non si avverano, restano solo nella mente dei personaggi. E quindi raccontando tutto questo possibile vissuto che poi non si realizza, resta dentro un senso di insoddisfazione che si trasforma mano a mano in decadenza. Poi il mio personaggio, Helen, totalmente innamorata del marito Steve, che è il protagonista di quest'opera e farebbe qualsiasi cosa per lui, ma lui è totalmente dedito a tutto ciò che ha a che fare con le decadenze, quindi gli eccessi che poi portano alla decadenza. Scenografia essenziale, pochi gli oggetti sono le luci a portare il pubblico dentro il successivo quadro scenico, tra i colori dominanti il beige, il verde e il fucsia, poi musica, voci, parole che disinnescano ogni tabù e i quattro personaggi con le loro dannazioni che, come scrive Berkhoff, sono diamanti frantumati che si squagliano nel vizio. Abbiamo lavorato con il regista per avvicinarci a questi ruoli, soprattutto col senso dell'ironia e il testo è inverso e quindi usando anche molto la musicalità del testo e questo ha evocato tutta una serie di immagini e situazioni che sono estremamente potenti. Questi personaggi, Steve e Les, ovviamente in direzioni opposte, ma sono estremi, proprio per questo la loro decadenza, arriva a punti quasi di non ritorno e tocca temi che sono assolutamente attuali, vari, perché si passa da un tema all'altro quasi senza soluzioni di continuità e ci sbatte in faccia un po' tutte le nostre debolezze, le debolezze della società. Questo lavoro teatrale di rara bellezza, già vincitore del premio Catania, premia Catania, promosso dal Teatro Stabile di Catania, ha conquistato il pubblico nisseno della stagione svelamenti.